di conflitti di interessi, perché io sono attento al tema dei conflitti di interessi, il che le consentirà la prossima volta di parlare del tema di merito, cioè del Consiglio europeo di cui si parlerà. E le aggiungo anche che il Presidente del Consiglio non può essere destituito dal Presidente della Repubblica, ma soltanto da questo Parlamento che se vuole può votare la mozione di sfiduazione nei nostri confronti.